Buonasera a tutti, siamo ormai alle porte dell'inverno. Il tempo fa un po' di sbalzi di temperatura e comunque è il momento di pensare alla vaccinazione per il ceppo dell'influenza del 2013-2014. Quindi il vaccino antinfluenzale è a disposizione in tutte le farmacie ormai dai primi di ottobre. Sappiate che da quando voi fate il vaccino ci vogliono circa 7-8 giorni prima che attecchisca, quindi prima che diventi efficace. Per cui se lo facciamo in questo periodo è proprio l'ideale in modo che poi cominciamo col mese di novembre dove siamo tutti più resistenti alla nuovo ceppo di influenza. Il vaccino antinfluenzale è consigliato soprattutto alle persone che soffrono di altre patologie importanti come per esempio i cardiopatici, gli asmatici, i diabetici o quelli comunque che possono avere una malattia cronica importante dove avere altre problematiche potrebbe portare complicazioni ulteriori alla loro patologia normale. Quindi soprattutto queste persone devono parlare con il loro medico per sapere quando fare il vaccino antinfluenzale. Poi è consigliabile che anche tutti gli operatori sanitari e tutti quelli che hanno un lavoro dove sono a contatto con molta gente tipo gli insegnanti sia scuola materna che scuole medie superiori perché comunque interagiscono con tutti i bambini. È opportuno ed è consigliabile che si vaccinino. Stessa cosa per gli infermieri, medici, farmacisti che sono comunque a contatto con tante persone che possono portare altre patologie. Allora il vaccino antinfluenzale classico è una piccola iniezione e il modo migliore perché abbia il maggiore assorbimento è quello di iniettarlo a livello del muscolo deltoide che è il muscolo che sta nella spalla. È una piccola iniezione potete farvi tranquillamente aiutare dal vostro medico di fiducia. Esiste anche il vaccino omeopatico. Il vaccino omeopatico non è altro che preso il ceppo dell'antinfluenzale chimica viene poi utilizzato e vengono impregnati i granuli omeopatici e si somministra in tubidose. Anche in questo caso è quello nuovo da utilizzare quindi attenzione a cosa comprate perché molte persone mi hanno detto ah io l'ho già acquistato già alla fine di settembre. Non può essere che fosse il vaccino nuovo perché stanno arrivando praticamente dopo il 10 di ottobre arrivano tutti i vaccini nuovi perché il ceppo è stato formulato nuovo per il 2014 e ci vuole la firma del ministero della sanità. Quello che avete acquistato a settembre guardate che non è efficace per il nuovo ceppo di influenza. Allora potete scegliere quindi se andare verso un prodotto naturale o un prodotto chimico comunque entrambi molto efficaci. L'importante è sempre portarsi avanti perché poi durante l'inverno diventa troppo tardi e andiamo incontro ad altre patologie. Arrivederci e buona serata.